Un punto guadagnato contro un avversario da prendere con le pinze. La Virtus Francavilla argina la serie di sconfitte consecutive e pareggia 1-1 contro il Catanzaro. Vantaggio dei calabresi con il gol di Fazio, pareggio bianco celeste con Zenuni prima dell'intervallo. Trocini conferma il 3-5-2 con Sparandeo e Noncelli, che prende il posto dello squalificato caporale in difesa. In attacco invece l'altro ballottaggio lo vince Kuban, che relega in panchina Mastropietro e va a comporre il tandem con Perez. In panchina si rivede Vasquez, arma che il tecnico si riserva di schierare a partite in corso. La prima occasione è proprio per la Virtus. Perez tocca in profondità per Kuban, che entra in aria dalla destra, cerca la conclusione della posizione defilata, ma Branduani si oppone con i piedi. L'attaccante ganese è ancora protagonista al quarto d'ora, quando riceve la nunzella e calcia dal limite dell'aria sfiorando il palo alla destra del portiere. Branduani è ancora attento sulla punizione velenosa di Franco. Il primo squillo degli ospiti arriva quasi in maniera casuale con Di Massimo, che sfrutta la traiettoria di un lancio dalle retrovie per ritrovarsi a tu per tu con Crispino, ma il portiere di casa evita il peggio. I ritmi sembrano calare, ma è un gioco che favorisce il Catanzaro. I calabresi alzano il baricentro dopo un inizio difficile e trovano addirittura il gol del vantaggio a 10 minuti dall'intervallo. Sui lunghi sviluppi di un calcio d'angolo, Carlini mette al centro per la testa di Fazio, che spalla alla porta, batte in torsione Crispino. Invece di accusare il colpo però, la Virtus reagisce subito. Il Catanzaro fatica ad uscire dall'aria, arriva un pallone vagante sui 30 metri e Zenuni ne approfitta per lasciar partire una sassata che fulmina Branduani. 1-1 e squadra il riposo dopo un primo tempo vivace. La ripresa si apre con il Catanzaro più determinato. Contessa prova a girare col sinistro la limite dell'aria, pallone che si smorza e finisce sul fondo. Ancora più clamorosa invece l'occasione che capita sui piedi di Di Massimo, che dopo aver vinto un rimpallo sfrutta un suggerimento in profondità, ma col destro manda pochi centimetri dal palo. Ospiti ancora pericolosi con il numero 18, che riceve da Casoli e tenta il destro a giro, che però si spegne a poco oltre l'incrocio dei pali. Le energie del Catanzaro iniziano a scemare. La Virtus prova ad approfittarne inserendo anche Vasquez ad un quarto d'ora dalla fine. La prima occasione del secondo tempo arriva però con il tiro di Perez, che prova il sinistro in corsa ma non inquadra lo specchio. Nel finale la stanchezza prevale e le occasioni scarseggiano. Le due squadre si accontentano del pareggio. Finisce 1-1 con la Virtus Francavilla che allunga sulla zona play-out, ora distante due punti. I biancocelesti mettono un freno alle due sconfitte consecutive contro Casertana e Ternana e si proiettano così al derby pugliese di domenica prossima. Si va allo Zaccheria di Foggia.